ciao ragazzi allora volevo farvi un video su questo vino che è di pacheroff che ho trovato in un'altra enoteca avevo voglia di sentire questo avevo voglia di sentire un kerner e ho trovato pacheroff in un'altra enoteca l'ho pagata una ventina di 20 euro erotti erotti ed è un 2021 allora il kerner è praticamente un vitigno che nasce da un incrocio tra un'uva bacca rossa che la schiava è un'uva bacca bianca che è il Riesling e rientro quello che è il discorso di vini aromatici e qui un buon vino assolutamente 20 euro devo dire anche con un buon rapporto qualità prezzo ma grazie al palato più che al naso mia opinione personale forse memore degli altri assaggi che avevo fatto di pacheroff in passato mi aspettava il naso un maggiore coinvolgimento assolutamente un vino pulito intensità una buona intensità una buona persistenza i ricordi sono quelli del ricordo speziato un ricordo minerale sfumature di erbe aromatiche c'è questa prevalenza di mentuccia fresca questo gioco un po di frutta troppi ci sono anche delle note di frutta tropicale frutta fresca e note floreali che in realtà poi le vai ritrovare al palato quindi al naso mi aspettavo ripeto memore delle dei degli assaggi del passato mi aspettavo una maggiore precisione cosa che invece paradossalmente la vado per ritrovare al palato al palato ti conquista perché freschezza acida regala uno slancio delicatissimo sapidità e poi hai questo questa larghezza che questa profondità di frutta tropicale di noce moscata si sente proprio la parte speziata è molto affascinante ricordi di licci e poi ancora le sfumature di 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 erbe aromatiche quindi trovo il palato cioè questo qui sarebbe un vino da bere da da provare solo per le sensazioni che provi al palato prima di tutto quasi la sensazione parlo della mia opinione personale perché devo anche stare attento come pallo perché qui ormai si scatena sempre l'inferno però l'ho trovato però vale la pena di assaggiarlo secondo me per il palato il naso avrei voluto qualcosina di più come quasi se fossero due due vini diversi il palato è boom proprio il palato ti porta via eh che bella degustazione tecnica vediamo adesso gli hate